Signori siamo qui veniti al matrimonio di Ivo e Giada, qui c'è Sayus, il testicone, poi c'è tutto qua, tutto il pubbuzzato, il cibo e questo, c'è Ivan, c'è Roscio, qua è pronto, lui sta facendo le prove generali per il suo matrimonio. Questo è il giorno precedente, adesso toccherebbe a noi ma la Mariottina è in ritardo, attenzione, no, un momento, c'è ancora 3 minuti, se no serve la prima volta che la Mariottina arrivi in ritardo. Benissimo, allora a tra poco. Grazie. 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 Lei, la schiavitù, la libertà, il tuo viola o serenità, un illudio a giorni luminosi, oppure due, no, se mi sarà specchio da un mio, rifletterò con certi idee, il fine e ultimo ti avrò. Da ora in poi. Grazie. 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 Allora potremo fare una prima battuta con gli sposi. Scusate, mi stai nemmeno fatto... Battuta!